È arrivata le 13.25 di oggi con una nota del Ministero degli Esteri, la più concreta speranza di poter rivedere presto libero Marco Vallisa, il 53enne di Cadeo che da sabato mattina non dà più notizie di sei familiari ai responsabili della ditta per cui stava lavorando come tecnico su un cantiere in Libia. A quell'ora infatti la Farnesina, pur non parlando ancora esplicitamente di rapimento, ha comunicato che erano stati liberati il bosniaco Petar Matic ed il macedone Emilio Gafuri, i due colleghi spariti assieme al Piacentino. Di Vallisa purtroppo ancora nessuna notizia, anche se il Ministero ha fatto sapere che proseguono tutte le attività per arrivare ad una positiva conclusione della vicenda che riguarda il nostro conterraneo. Sebbene non ci sia alcuna conferma ufficiale, è chiaro che si tratti di un rapimento a scopo di estorsione, messo in atto probabilmente da una banda locale ai danni dei tre tecnici della Piacentini Costruzioni, impresa modenese che a Zua, la zona nord-occidentale del paese africano sta realizzando alcuni lavori per la costruzione del nuovo porto. La notizia della scomparsa era piombata addosso alla famiglia di Vallisa sabato pomeriggio, da allora tutta la comunità di Cadeo si è stretta attorno alla moglie Silvia, la farmacista di Roveleto e i tre figli piccoli. Tutti vivono ore di grande preoccupazione e angoscia, ieri a messa si è pregato per lui, domani sera, se nel frattempo non arriveranno buone notizie, è prevista in parrocchia una veglia. La notizia della liberazione dei due colleghi però ha riacceso la speranza di poter riabbracciare al più presto Marco. Abbiamo io molta fiducia sinceramente in quello che stanno facendo e spero ovviamente che torni in casa al più presto e che riavbracci i suoi figli che sono lì che lo aspettano a braccio aperto. La circostanza non è positiva però l'unico fatto che probabilmente vi può far piacere è che tutta Cadeo, tutta la comunità piacentina sia stretta attorno alla vostra famiglia. Sono gentilissimi tutti e mi chiedono tutti e mi stanno tutti vicino, sono veramente un paese che lo ammiro, che lo rispetto e sono molto contento di questo perché sono veramente tutti amici e ringrazio tutti di cuore per quello che stanno facendo nei nostri confronti. Sono speciali tutti, veramente grazie a tutti di quello che stanno facendo. Può sicuramente essere un buon segnale perché siamo tutti fiduciosi che questo non sia che è l'inizio dell'epilogo positivo della questione. Ce l'auguriamo tutti ma ci lascia in un stato di ansia e di apprensione ancora, se vuole, ancora più forte perché si sembra vicini a una soluzione che mi auguro proprio sia positiva. Questi frangenti qua c'è solo da sperare e i politici facciano la sua parte. Fiducia sì, però non dipende mica da noi. Speriamo che a Roma si diano da fare, basta, chiudo. La parlamentare piacentina Paola De Micheli ha contattato il ministro Federica Mogherini, la quale ha garantito un massimo impegno per riportare a casa il tecnico piacentino. Stiamo valutando tutte le informazioni legate alla liberazione dei due tecnici, ha detto la Mogherini. Proseguiamo a lavorare con il massimo riservo con l'unità di crisi e i servizi dello Stato. Grazie a tutti.